Eeeh, bello a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Alebbene86, chi non muore si rivede, voi state vedendo il video di martedì ma io lo sto registrando di lunedì e quindi come dico io, iniziamo la nostra settimana videoludica, nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sul pezzo con i football, 2025 e che pezzo regà, perché se dall'immagine di copertina e dal titolo hai già capito il tipo di contenuto ti invito a rimanere sintonizzato perché tra poco si parte, voglio condividervi la build fotonica di Leo Messi che forma uno dei tridenti più forti della storia del calcio MSN, visto che la community ha scalpitato, dopo il video pack opening avevo intenzione di non andarlo a prendere ma siete venuti a cacarmi tre quarti di minchia, scusate il francesismo e quindi la passione ha preso il sopravvento, Messi si unisce allo Scarsenal quindi voglio condividere la build, poi in altre cose regà, tantissimi ragazzuoli, soprattutto i neofiti, mi scrivono in privato e io se ho tempo lo sapete benissimo che cerco di rispondere a tutti, che la domanda è quella che sorge spontanea, quella che rimbomba a lei, cosa significa passiva attiva? Cosa significa a passiva spenta? Quindi oggi tutorial per chi deve diventare del mestiere da farvi capire cosa significa passiva attiva, a passiva spenta e quindi rimanete sintonizzati sul video, solo la prassi, poi si parte bedazzi se il contenuto ti piace ti invito a lasciare un bel like di supporto e vi dico già in anticipo un grazie perché il canale sta andando una hit poi se la tua passione ti spinge per la prima volta sul canale ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi contenuti che arriveranno inoltre mi riallaccio al discorso del neofita, se sei un player nuovo che bazzica e muove i primi passi sui football si vuole migliorare perché il gioco è competitivo, il gioco fa bestemmiare oppure se sei un player che gioca già da un pochino di tempo ma vuoi migliorarti da solo con te stesso e non ci riesci? Il tuo lebbio offre lezioni private su questo videogioco, trovi tutti i social in descrizione per contattarmi ma adesso? Esattamente, l'attesa è finita, si comincia, vamos! Le bedazzi, come sempre, come di consuetudine, non è finito di trabagliare mo mo perché ho intenzione di fare un'altra cosa nella programmazione del canale siccome io sono una persona che vive il game, però ho una connessione che è una merda, regà l'infrastruttura di Konami non so se è più merda della mia connessione quindi sto riscontrando una fatica immane a giocare al pomeriggio quando avrei più tempo a disposizione da dedicare alla mia passione ovvero dopo le 18 che la donna va a lavorare, io regà non riesco più a giocare tra turchi, arabi, cazze e mazze, ho un delay della madonna e quindi io mi faccio veramente del nervoso ho deciso di, siccome ho la fortuna che l'impresa è la mia, sono titolare di me stesso, posso gestirmi agli orari io registrerò al mattino, così vedo se riesco a farvi uscire i video per gli ultrasfotonici sul canale alle 14 di ogni giorno me lo edito alle 9, mi metto la sveglia, regà, perché tanto è così invece di fare l'after alla notte a fare il coglionazzo con il brothers e il renzino lo scandalo in coppa andare a scoppolare, vado a dormire un po' prima, mi sveglio un po' prima registro il video, lo edito e invece di farlo uscire a mezzogiorno magari lo faccio uscire per le 14, vedate quindi, non ci perdiamo in chiacchiere, playstation 5 appena acceso, bonus di accesso al giornaliero ci pigliamo 10.000 GP, ovviamente, più che mai di mattina ci pigliamo pure un caffettino, regà perché sennò il neurone non si attiva allora, cosa c'è da fare qua? Riscattiamo tutto chi lo conosco, sigaretti ok, abbiamo fatto il test my limit, ci siamo qualificati in una bella posizione abbiamo preso anche i token e le abilità spero di sculare un doppio tocco, regà da darlo a Gullit, giocatore chiave impostato lì punta che quello Milan ce l'aveva, questo qui gli manca come l'aria, regà poi, andiamo da Snoop Dogg, regà ieri un trauma, Snoop Dogg gioca a FIFA, ho visto un video l'ho messo sul gruppo Tele gruppo Telegram che siete tutti invitati, bedazzi non fate i timidi, trovate il gruppo in descrizione del video come trovate il mio profilo Instagram e dove potete contattarmi per il coaching se avete intenzione di migliorarvi, regà allora, avanziamo di 6 eccezionale Snoop Dogg, non sbaglia ok riscatta perfetto siete pronti? certo che sì, perché siete gli ultras dello scarto build fotonica, regà completo in tutti i reparti la tocco piano la tocco piano se gira perché deve girare se gira, regà se gira, penso che sia la carta più rotta del gioco sto messi qua 108 in game è qualcosa di allucinante già solo perché c'ha quel tiro già solo perché c'ha quel tiro, regà già solo perché c'ha il blitz curler si presenta così direttamente da Rosario direttamente sponda a Barcellona colui che ha incantato il Camp Nou e tutto il mondo del calcio Leo Messi SP a passiva spenta e tra poco ritorniamo al discorso delle passive attive delle passive spente perché lui è la prolifica ovviamente regà cioè c'è gente che è del mestiere sa benissimo cosa significa passiva attiva o passiva spenta il video è dedicato a tutte quelle persone che muovono i primi passi sui football allora però un rispolveramento non fa mai male c'è da andare a studiare allora si presenta così di che cazzo stiamo parlando? di che cazzo stiamo parlando, regà? completo in tutto ho preferito dargli anche il passaggio a 90 portargli la finalizzazione sopra a 91 ho tolto un pizzico di dribbling tanto è fotonico controllo del corpo a 98 velocità a 90 accelerazione sopra i 100 fino al potenza tiro questo anche da 30 metri se beccate gente che non è tanto bravo a usare il portiere in manual e deve girare con quei tiri buggati è fotonico, regà fotonico secondo booster io ho dato istinto da attaccante per aumentare ancora di in più uno il comportamento offensivo il controllo palla la finalizzazione l'accelerazione il primo è una new entry è un booster che si chiama magico più 4 sempre attivo comportamento offensivo dribbling possesso stretto e accelerazione devastante sapete come si presenta? si presenta così progresso giocatore allora tiro 6 passaggio 6 dribbling 7 destrezza 10 e forza arti inferiori 10 regà poi con l'allenatore Xabi Alonso contro piede veloce e come l'avete visto in campo col secondo booster selezionabile istinto da attaccante eccezionale eccezionale la passione prende il sopravvento gli ultras chiamano non puoi tu content non c'è non avere messi lo devi prendere perché poi ti gasi nei che guardiamo i video ci gasi si regà quando entra una crocca interrotta il tiro a giro dall'out di destra metterla là dove nessuno può arrivare ti gasi quindi torniamo indietro adesso entriamo nel vivo del video quindi per sapere cosa significa passiva attiva o passiva spenta c'è da studiare c'è da studiare gli stili di gioco la passiva è quella regà lo stile di gioco attivo o disattivo per determinati ruoli ci sono degli stili di gioco poi ci sono giocatori che possono fare altri ruoli che non scende l'overall ma la passiva si disattiva come facciamo noi a capire se un giocatore sta giocando a passiva attiva o a passiva disattiva così regà si va qui si va su aiuto consigli no info generali scusate stile di gioco e qui vi escono tutti gli stili di gioco adesso dovete studiare regà ma se siete appassionati il tempo glielo dedicate perché io li ho imparati a memoria su tutti i ruoli su tutte le passive allora partiamo dall'opportunista l'opportunista un rapace dell'area di rigore che gioca a contatto con l'ultimo difensore posizioni compatibili solo la punta regà è come il collante il collante può fare solo il mediano a passiva attiva poi ci sono opportunisti che possono fare anche l'SP Ronaldo Showtime vi faccio un esempio lui se lo impostate SP non scende l'overall quindi significa che quella posizione la può ricoprire ma si disattiva la passiva opportunista quindi Ronaldo SP è a passiva spenta poi senza palla è un giocatore che attira su di sé la difesa perché ha respazio negli inserimenti agli inserimenti dei compagni posizioni compatibili senza palla può fare punta seconda punta e trequartista quindi se voi avete un adesso fatemi venire un Villa uno degli ultimi Villa Booster che è un senza palla lui come passiva come stile di gioco se voi gli assegnate la posizione che ne so ESA lui gioca a passiva spenta a passiva attiva può fare solo tre ruoli punta seconda punta e trequartista Rapace Daria si nomina un altro attaccante del solito perché è un goleador sempre in agguato nell'area di rigore avversario in attesa della palla posizioni compatibili punta solo quello vedete anche Rapace Daria può fare solo una posizione Alland Rapace Daria l'SP non la può fare poi se gliela volete far fare e con i preparatori di posizione date l'SP a Erling sappiate benissimo che il Rapace Daria a passiva attiva per attivare lo stile di gioco può fare solo la punta fulcro del gioco un giocatore che si posiziona in attacco come fulcro di gioco e protegge la palla grazie al fisico posizioni compatibili passiva attiva solo la punta l'attaccante di rientro che a differenza dell'opportunista è quell'attaccante ce n'è stata una versione di Messi c'è stata una versione in regalo di Neymar del Santos sono quegli attaccanti che invece dell'opportunista che aspettano e si lanciano se c'è il buco l'attaccante di rientro cosa fa? cerca di venire verso il centrocampo verso le seconde punte verso il trequartista per cercare di ricevere pallone e impostare è una passiva che a me non piace attaccante io preferisco la passiva attiva 100.000 volte l'opportunista ma se voi vi trovate con l'attaccante di rientro vedi Van Basten vedi altri giocatori attaccanti di rientro vedi Neymar del Santos siete liberissimi di metterlo negli vostri 11 titolari o da super sub super sub cosa significa? super sub se lo mettete lo mettete trequartista perché magari già di default la posizione trequartista la può fare non vi gioca ad attaccante di rientro e lì siete in mano alla CPU della carta come si muove il giocatore a passiva spenta ci sono giocatori a passiva spenta che sono baggatissimi ci sono giocatori a passiva spenta che passeggiano regista creativo uno degli stili di gioco uno delle passive più belle del gioco secondo me dove ci sono tantissimi giocatori fotonici messi nei mar cazzi e mazzi allora sfrutta le aperture questo qui è uno stile spettacolo secondo me messo lì trequartista o SP allora e infatti può fare una marea di stili ne può fare 6 rega sfrutta le aperture nella difesa avversaria per avviare azioni d'attacco e fare assist in ai posizioni compatibili SP EDA ESA trequartista CLD e CLS uno degli stili che può ricoprire più ruoli di tutti in campo il regista creativo non me ne vengono in mente altri di ruoli di stili di gioco che possono ricoprire tutte quelle posizioni in in campo poi quindi adesso sapete che nei mar regista creativo messi regista creativo posso metterli punta se hanno già la posizione di default li potete mettere punta non vi scenderà l'overall se invece non avete la posizione vi scenderà l'overo siete liberissimi di andarla a dare se volete mettere Neymar Brasile punta perché ho già visto alcuni che sono riusciti a dargli la punta a Neymar regista creativo Brasile ma sappiate benissimo che vi gioca passiva spenta poi alla prolifica si posiziona sulla fascia per ricevere passaggi e taglia taglia al centro quando si presenta l'occasione posizioni compatibili solo Eda Eza e qui torniamo a noi le ultime carte che stanno uscendo vedi carte bagate Ronaldinho Barcellona è un'ala prolifica l'ultimo Messi è un'ala prolifica l'ultimo Neymar sono ale prolifiche possono ricoprire quelle posizioni di campo cioè o esterno a sinistra o esterno di destra siccome al vostro alle beni giocare sugli esterni non gli piace perché chi gioca all'esterno di solito è uno che va quasi sempre al cross sono degli ultimi stili per carità anche un po' in meta secondo me ma io giocatori come Ronaldinho giocatori come Messi li metto a passiva spenta a passiva spenta ovvero che non si attiva lo stile di gioco alla prolifica OSP vedi Ronaldinho out di sinistra per rientrare col destro o Messi vedi l'ultimo out di destra perché c'ha quel tiro a giro buggato di Mancic e quindi io li faccio giocare a passiva spenta come facevo giocare a passiva spenta Messi big time taglio al centro impostato punta perché il taglio al centro può fare solo quattro ruoli anche lui sempre da esterno un po' più offensivo con E da ESA un po' più arretrato con CLD e CLS se avete Messi big time e lo fate giocare SP in un attacco a 3 punta in un attacco a 2 b disattivate lo stile di gioco taglio al centro poi girano se sono giocatori forti programmati bene girano anche a passiva spenta girano anche a passiva spenta specialista dei cross mi viene in mente il primo Alexander Arnold sono giocatori che possono anche fare i terzini ma le posizioni compatibili sono EDA ESA CLD e CLS proprio come il taglio al centro proprio come il taglio al centro classico numero 10 classico numero 10 fino all'anno scorso era un giocatore inutilizzabile perché per me era un giocatore troppo statico lui non era attivo era più passivo cercava di rimanere fermo in campo poi hanno detto che hanno lavorato sulla programmazione della CPU dello stile di gioco e quindi un po' di più si muove ma non è un giocatore in meta il primo che mi viene in mente è Maradona regalato dai calci di rigori poi c'è Zico direttamente dal Brasile che gioca al calcio è un playmaker che avvia gli attacchi vicino all'area di rigore si può sempre trovare pronto per segnare quando si presenta l'occasione si è un buono stile di solito sono giocatori che hanno hanno i piedi buoni anche Francesco Totti però c'è gente che lì preferisce 100.000 volte o il regista creativo o il giocatore chiave e io devo sposare la loro stessa linea di pensiero non mi ci trovo col classico numero 10 e quindi può fare solo due posizioni poi tipo Maradona se sculate la posizione punta out di destra lo potete mettere punta si disattiva la passiva classico numero 10 però il classico numero 10 ne può fare solo due seconda punta e trequartista giocatore chiave un altro stile meta un altro stile meta può ricoprire ben 5 ruoli i più usati sono CC trequartista e SP secondo me CLD e CLS giocatore chiave si c'è chi li mette ma i tre stili i tre ruoli sono quelli il trequartista soprattutto mi viene da dire poi è diventato un po' in meta con la scusa che il rombo quindi c'è gente che mette il giocatore chiave centrocampista centrale io un giocatore chiave che mi inserisce lo preferisco SP anche se non mi ci trovo tanto perché sono abituato al regista creativo giocatore chiave è quel giocatore lì un giocatore con il fiuto del gol che si spinge in avanti a ogni minima occasione posizioni compatibili ben 5 SP trequartista centrocampista laterale di destra centrocampista laterale di sinistra e centrocampista centrale Gullit l'ultima versione fotonico giocatore chiave anche lì mi riallaccia il discorso io gli disattivo la passiva perché la punta non la può fare e quindi mettendolo su il giocatore chiave la passiva si disattiva l'onnipresente l'onnipresente mi cade una lacrimuccia qui c'era una volta accant'è direttamente da chi giocava a pass onnipresente baggatissimo è un giocatore che copre instancabilmente ogni zona del manto erboso per tutti i 90 minuti sono giocatori con tantissima resistenza con tantissima pressing in automatico ve li ritrovate ovunque ci fu una versione di Viera Big Time all'inizio dei tempi che era qualcosa di esagerato può fare solo quattro posizioni CLD, CLS, CC e mediano l'onnipresente di solito si mette adesso è in metal collante l'incontrista lì mediano e quindi tanti optano per mettere l'onnipresente CC ma io mi ricordo all'indietro l'onnipresente messo mediano cantè su tutti era qualcosa di buggato collante una delle passive più utilizzate del gioco soprattutto lì davanti alla difesa per dare copertura perché quello fa il collante può ricoprire solo quella posizione lì mediano poi ci sono collanti che si comportano bene anche in difesa passiva spenta me ne viene in mente uno su tutti Rykard Milan perché è proprio buggato di programmazione di CPU da parte di Konami è un centrocampista arretrato che opera davanti alla difesa volete un uomo più in copertura perché non siete dei fenomeni a difendere io vi consiglio il mediano collante al mediano incontrista anche se si può nerfare la passiva incontrista dando l'istruzione individuale difensivo all'incontrista ma non sarà mai come il collante io tra tutti i mediani preferisco il mediano collante torniamo al mediano incontrista che non può fare solo il mediano ci sono anche difensori centrali come incontrista vedi prendo uno dello Scarsenal a Muzzo Paolino Maldini incontrista l'incontrista Maldini ovviamente la posizione mediano non ce l'ha chi fa fare a Paolino Nazionale il mediano non è del mestiere però c'è gente che ai mediani incontristi io in una tattica secondaria avvierà dandogli la posizione di C il difensore centrale glielo faccio fare in una difesa 5 per dare copertura negli ultimi minuti è un lottatore l'incontrista è un lottatore tenace che respinge gli assalti avversari compressi che contrasti aggressivi vi esce in automatico rega soprattutto con la C più che c'è adesso per quello tanti optano con l'istruzione individuale difensiva al mediano incontrista mi viene in mente uno su tutti Patrizio Viera mediano incontrista versione Arsenal e può fare quelle posizioni CC mediano e DC tra le linee un'altra bella passiva un'altro bello serie di gioco io lì ho pedrito direttamente dal Barcellona dalla Spagna che gioca al calcio abbiamo anche il maestro Pirlo Andrea Nazionale rimane in agguata in posizione arretrata quindi vi dà copertura pronta ad avviare azioni offensive sono giocatori che hanno i piedi buoni sono giocatori schillati vedi Frank De Jong vedi Pedrito vedi Pirlo è un'ottima passiva possono fare solo due ruoli mediano e CC io il tra le linee a volte lo gioco passatemi il tempo lo gioco scendi lo cane che lo piscio passiva spenta tre quartista rega il tra le linee perché mi piace come giocatore perché sono giocatori forti a stazza la mano sviluppo il difensore centrale per eccellenza perché dici così Ale perché minchia ci sono incontristi perché secondo me la passiva sviluppo è il difensore centrale per eccellenza perché dormite su due guanciali perché sta lì perché sono ottimi giocatori con statistiche difensive belle alte è il difensore per eccellenza è un giocatore che ama ripiegare per far partire l'azione offensiva dalle retrovie e lui ve lo trovate lì non è il difensore incontrista che potete optare di dargli istruzione individuale difensivo lo sviluppo non ha bisogno del difensivo lo sviluppo non ha bisogno di nessuna istruzione individuale perché vi dà copertura sta lì quindi consiglio che vi dà il vostro alle beni non siete tanto bravi a difendere non optate per la coppia fotonica incontrista sviluppo schierate due sviluppo come difensori centrali due terzini difensivi e dormite su due guancialiere perché lo sviluppo è un giocatore che ama ripiegare per far partire l'azione offensiva delle retrovie a volte tramite lanci lunghi in avanti posizioni compatibili solo il difensore centrale passiva fotonica lo sviluppo frontale extra lasciate perdere se non siete è torito se non siete Renzino che switchate in manual e lo tenete lì gli potete dare anche il difensivo a volte ve lo trovate a metà campo il frontale extra potete optare per fuori passiva terzino sinistro o terzino destro vedi un D un difensore che partecipa alla manovra offensiva e a sedia all'area avversaria a ogni occasione se voi guardate il radar e mettete io ho provato e mettete un frontale extra vi lascia dei buchi soprattutto se giocate con contropiede veloci che non ne avete idee poi terzino offensivo è una passiva buona io preferisco i difensivi perché non sono tanto bravo a difendere potete optare per un terzino difensivo da una parte e uno offensivo dall'altra parte che vi dà la spunta me ne viene in mente uno su tutti direttamente dal Brasile e dai Galacticos Roberto Carlos è un terzino che corre in profondità si unisce all'attacco non ha piena fiuta all'occasione posizioni compatibili con la passiva attiva solo con i due ruoli terzino destro o terzino sinistro terzini difensivi io li preferisco perché anche se date il difensivo al terzino offensivo si che sta sta di più da un po' più di copertura dietro però il terzino difensivo oltre a stare dietro stringe anche a chiudere a difendere un po' la porta a differenza del terzino offensivo un terzino efficace che preferisce restare dietro per concentrarsi sui compiti difensivi Turam lo zio Bergomi Araujo vabbè Araujo poi lo mettete a passiva spenta se ce l'avete difensore centrale è il difensore centrale più buggato del gioco ma lì sono dettagli terzino mattatore Joao Meravigliau Canseleo è uno dei terzini mattatori insieme ad Akimi più forti del gioco terzino offensivo che ama unirsi alle azioni di attacco nelle vie centrali quindi quando voi ripartite il contropiede lui lascia la sua posizione difensiva e vi dà un supporto per vie centrali quindi vi aiuta col fraseggio diventa tipo un cc un mediano un cc in fase di attacco poi portiere offensivo ve lo sconsiglio ve lo sconsiglio vi consiglio portiere difensivo ho un portiere che svolge cioè noier su tutti una funzione di libero sta fuori sta oltre anche il dischetto del rigore sta al limite dell'aria c'era adesso se avete poi quei giocatori buggati col tiro a giro come Messi Neuer ogni quattro tiri sono cinque gol se non siete fotonici a switcharlo in mano e a rimandarlo sulla linea di porta quindi io vi consiglio il portiere difensivo non avete portiere difensivo giocate con il portiere offensivo posizioni compatibili ovviamente ovviamente solo il portiere idem per l'offensivo che per il difensivo difensivo vi dà un po' più di copertura gioca sulla linea di porta resta lungo la linea di porta posizioni compatibili portiere niente vedazzi che dirvi spero di essere d'aiuto a qualcuno penso di essere stato il più chiaro possibile e adesso da quanto è che registriamo 26 minuti cosa facciamo per gli amanti del gameplay ci buttiamo nell'inferno delle divisioni del campionato del interno con lo scarsano vediamo di che morte morire e da sinistra a destra o da destra a sinistra c'è da farmare punti e mettere il piede sul gradino più alto del porto 5 le tacche di latenza che ovviamente accettiamo c'è una cpu che fa paura raga e di nuovo turco raga tanto lì l'emblema del test my limits è top 200 buono sono andato bene bene ma non benissimo 15 partite 13 vittorie e 2 pareggi e anche la mattina me li dai non lo so se va in conflitto la mia la mia FWA perché veramente su 10 partite io becco 8 di loro speriamo che adesso i server sono un po' meno carichi e c'è un po' più di reattività nei comandi perché se no cioè da come da quanto ritardo c'è veramente un terza divisione io impazzisco senza nulla a togliere le terze divisioni vediamo al mattino se gira un po' meglio l'infrastruttura dai lascio tutto così non tocchiamo niente lascio tutto così raga sto modulo sto modulo l'ho provato in copp ieri non è farina del mio sacco non mi prendi meriti do i meriti a chi è veramente del mestiere in copp girava come un'orchestra lo so che è un'altra modalità sono curioso di provarlo nell'uno versus uno in divisioni sto modulo qui arriva direttamente dalla juventus che giocava al calcio dal buon il brothers renzino lo scandalo raga renzino lo scandalo amico e compagno di team e-sport outplayed non mi venite a chiedere le istruzioni cazzi e mazzi perché lo sto provando nelle divisioni è la prima partita nelle divisioni è la prima partita che faccio vediamo lo turco come cazzo si presenta ok contropiede veloce anche lui sullo cartempelo più forte lo scarsena non ci perdiamo in chiacchiere vamos potrei inciampare se non gira potrei scendere sotto i 1700 cerco di non tiltare di non quittare perché sennò mando a puttana il video quello perché non voglio condividere scleri cazzi e mazzi voglio essere qui a condividere solo divertimento passione cazzi e mazzi sto gioco l'ha fatto il demonio un altro turco alla corte del vostro alle beni raga taca e basse kickoff patrizio esce subito come un 3 buone buone eccezionale la pulce cerca per tugio leo non va bello il gaucho eh porca puttana si presenta così la pulce stampa la prima traversa stampa la prima attraversa la pulce numero del turco attenzione questo magari la prima labdista rimpallo su alziamo l'attacca tutta di là c'è pedrito che sale ah devo farla dall'altra parte vai pedrito iniziamo a perdere i rimpalli occhio che entra rikard buono dai leo perdiamo i rimpalli raga tutti a lui dai madonna che gioco impraticabile con loro raga impraticabile stai calma stai calmo stai calmo alza la chetta la piglia provaci leo va bene alza la chetta la piglia gullito tu ce la fai io lo so che vuole andare in mezzo non riesco a switchare non riesco a switchare non è come il pomeriggio ancora in mezzo gliela ridà niente dai non si riesce non si può difendere capace che mi scendo sotto i 1700 punti raga perché becco i turchi madonna che l'abbiamo sculato messi non ci credo regà se è frizzato la mette da qui ma vai affanculo ma porco dio devo già bestemmiare di prima mattina su sto gioco di merda stai calmo stai calmo stai calmo che la quitti stai calmo ma robe dell'altro mondo sti turchi di merda poi mi dicono ma sei razzista non so razzista non si può giocare regà non si può giocare 2000 euro di pc 300 di router 800 euro di monitor 300 euro di sedia e poi c'è un'infrastruttura di merda ma robe dell'altro mondo ci arriva ci arriva devi stare calma forco dio entrato troppo lontano troppo lontano è pigliacchista vai così cazzo gullito col mancino qui spacca la porta si attiva l'abilità tiro a salire partito fuori gioco io bestemmio troppo regà troppo ci va la fibra ci va la fibra ottica non si può giocare contro i turchi regà non si può giocare niente ne parlavo ieri sul gruppo telegram con i socio al pomeriggio turchi al mattino ancora turchi regà ma non cioè non è normale si prezza in mezzo in mezzo l'ho già capito l'ho già capito gliela ridà in mezzo non si può difendere non ti puoi difendere non puoi switchare veloce non puoi si si da 60 metri voleva fare gol arriva lui arriva lui dio santissimo ancora lui arriva ma dio mmm dai dove cazzo vai nei mar guardate ma 1 a 0 1 a 0 stai calmo che tilti tilto regà tilt tilt perché potrei perdere e andarla a perdere ingiustamente tutta digno vai gaucho se non mi dai tu ram devo fare i miracoli col portiere in mano ti devi inventare il gol della madonna ti devi inventare le azioni della madonna ti devi inventare porco diaz questo ti devi inventare no autoblock va 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 dritto per dritto ma chi cazzo è questo che va dritto per dritto eh da qui perché arriva in automatic da qui perché che arriva pedritto vattela a prendere tu pedritto si sprint boost patrizio eccezionale regà patrizio eccezionale patrizio come è partito tutto dai piedi di pedritto regà dei piedi di pedritto qui a partito tacche basse mo me lo difendo su 2 a 0 che mo non gira più niente attenzione subito al 2 a 1 via nostra sessantesimo gullitte dai che è solo buona mezzo bella lì così 17 addos eccezionale la pulce l'ha già messo lì il portiere è bravo diciamo le cose come stanno c'ha paura di tirare a giro buggati giustamente il portiere lo chiama porco dio che cpu di merda che c'è alla s dai che la cappella dai che la cappella esce bene brothers anche tu ram esce bene guarda 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 quanti cazzo ne ha guarda 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 come cazzo vengono aiutati ma ma non locka la skill ma facevo l'elastico ma la mettevo sul sinistro buco lo faccio già uscire così ce l'addosso pedrito no pedrito è nano via salti il primo c'è sempre il secondo occhio che rientra subito via buono dietro così dai smarmellare così che mi va in porta stai stai gulliti non gira più niente via tanto arriva lui la prende lui eh va bene basta non posso più giocare raga non posso più giocare e quindi si fa così vai a prenderla là vai a prenderla là dai guarda 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 che cazzo succede si ti passano attraverso sti miracolati mezzo buona Neymar brutta brutta qua ho sbagliato io dai che dai che è finita dai che è finita dai che non lo prendiamo dai che non lo prendiamo aspetta madonna che tramposa la porta in porta raga finisce così ma non si può giocare non si può giocare pensavo al mattino che non c'erano ma invece è proprio una cosa di matchmaking scriptato raga è una forma di matchmaking programmato così ve lo ricordate quando i primi divisioni beccavano solo le terze divisioni è una roba del genere mi sta succedendo il mio account becca solo turchi magari come me nella situazione ce ne sono tanti altri capito è una forma di programmazione di matchmaking mi devo fare solo il segno della croce raga se becchi già quello un pelino più bravo dal ritardo che c'è tu non puoi giocare e perdi e poi si classificano al club event fanno numeri 1 nel test my limits perché 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 contro di loro non si può giocare raga perché contro di loro non si può giocare non sono il primo a dirlo contro di loro non si può giocare punto allora andiamo avanti ci prendiamo 20 punti 30 punti quanti ce ne da bedazzi ce ne da 23 1730 va bene così ritorniamo a vincere le ultime 5 partite 4 turchi in italiano non era del mestiere perché se già mi dà il prima divisione si fa fatica vediamo se ce l'ha l'emblema della prima sì ma magari ci è arrivato 4 season fa quando ci sono arrivati cani e porci quando ci è arrivata gente anche che stagna in D2 e ci sono arrivati non mi ha impressionato allora punti cascina raga ovviamente raga lui non c'entra un cazzo però siamo sempre lì sempre lì perché questo discorso lo devo ripetere in loop perché c'è un'infrastruttura di merda che chi ha una connessione che non è la fibra contro di loro cioè non puoi giocare meno male che nel test my limits nel test my limits di 18 partite che ho fatto per giocare dei 15 in una streak positiva ne ho beccato uno raga se no col cazzo che fai top 200 se ti da 5-6 di loro ma non è fattibile far la top 200 con la mia linea niente bedazzi che dirvi se siete arrivati fino a questo punto il video giunge al termine veniamo a noi perché il dovere chiama a farlo i saluti agli ultras più fotonici d'Italia raga perché il canale sta andando na hit raga quindi massimo supporto massimo supporto sotto anche questo video lasciato un bel like bedazzi perché è fondamentale perché io ho visto che più like ci sono più sta specie di algoritmo di youtube spamma spamma raga spamma più di 2000 view 160 like 125 commenti mi riallaccio a questo messi nei mare suarez calmati stai calma commenti 125 minchia 125 commenti pazzi allora salutiamo il buon Raffaele Manzo benvenuto e buona permanenza sul canale sia a te sia a tutti i nuovi iscritti e anche a quelli timidi che non commentano poi salutiamo Vituzzo Maxpiri Raffaele Cavalcante Patrick Pereira Gigi Gallo Andrea O.P. che non fa parte del team Outplayed ma è un paesano il buon Andrea poi salutiamo Alessio Falchi Alessio Franchi no Falchi Artarico 84 Lucchino ACL Simpli Wainik Lorenzo Morabitu Cumpari Caccia Maurizio il Pegaso Dario Vincenzo De Falco Ultras dello Scarsena Mike Eltravaglini Daniele Rossonero Ettore Placido grandissimo Ettore Ruzzo Prince Boateng Ale Uleit allora aspetta che gli devo lasciare il cuore non l'ho letto poi salutiamo Fabrizio Di Rito Des R4is vabbè DS salutiamo DS che avete dei liscia di lingua come i D poi Lorenzo Morabito l'ho già preso salutiamo Sigpar Vismagna Eugenio Longobardi Matteo Casterspina Freddy Kruger eccezionale sempre presente direttamente dalla Calabria che ti fa scarsene al Antonio Bonofiglio Immobiliare poi salutiamo Merini Manson Marco Zemi 94 Gianmarco Traverna Bentornato Brothers quello sempre presente salvo Clemente che ieri minchia non è uscito il video madonna lei il video non è uscito direttamente dal Salento Mircuzzo Erpete Matt78 un bacio brothers e grazie per l'abbonamento al canale VRNBA Pippo Foden Giuse 70-90 Unlucky Lux Giuse Trovato Enzic Cento eccezionale proprio lui il socio più socio che c'è Simo Play Andrea Mete e Carlone Tizi Bedazzi che cazzo devo dire che siete fotonici grazie mille per il supporto Bedazzi non mi stancherò mai di dirlo quindi che dire siamo in chiusura fatemi sapere nei commenti se il video mi piace tanto dei like me ne accorgo il contenuto il video arriva al termine se sei arrivato fino a questo punto il tuo le beni come sempre in primis ti ringrazia in secondi ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata alla prossima con un nuovo video sui foot ciao Bedazzi